Tremolata a gol d'autore, che oggi significa il pareggio in una partita molto difficile. Sì, è una partita difficilissima, anche se tolti i primi 25 minuti abbiamo fatto una grossa partita. Non è tanto il gol quanto il punto, che è importante. Tutti questi pareggi alla fine ce li possiamo ritrovare con qualche vittoria. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, perché questa squadra è forte. Continuiamo a lavorare tutti insieme, da noi, giocatori, alla società, al ministro, a voi giornalisti quando giudicate. È il pubblico che è incredibile. Siamo tutti sulla stessa barca, sono punti importanti questi che alla fine ci ritroveremo. Analizzando la tua rete, a mio avviso molto bella, cross di Tiscione, in una mezza non rovesciata, perché comunque sei rimasto in piedi, hai messa sul pallo più lontano nel portiere, anche Frattali ha detto che ha fatto un grandissimo gol. Comunque il quinto, se non erro in campionato, e poi l'esultanza e l'abbraccio ipotetico, così tra i tifosi della curva est, visto l'altra volta che si è andato sotto la nord. Comunque sempre più un tremolata leader di questa squadra, è trascinatoria. Sì, ma come ce ne sono tanti per quello che facciamo in campo. Pippo lo conosco, è un ragazzo che ci mette sempre il cuore delle qualità importanti, sapeva che poteva darmela. Mi subisco anch'io, riesco a fare gol di destro così. Quando faccio anche quelli di sinistro che è il mio piede, vuol dire che siamo sulla strada giusta. A parte gli scherzi, è stato un gol importante perché non meritavamo di perdere questa partita. Poi il fatto che il coro mi piace, andrà a risultare sotto i tifosi, indipendentemente dalle curve, perché lo meritano, perché ci stanno sempre vicini da 17 partite. Da altre parti non sarebbe stato così. Siamo qua a dire ancora, ma rammarica, due punti persi, un punto guadagnato. Purtroppo la via è talmente strana che non bisogna mollare, ripeto, tutti insieme. Oggi secondo noi non è un punto perso, perché la Ternana nel primo tempo è partita con il freno a mano, questo poi ce lo dirai tu, forse anche per la forza del Parma. Poi ha fatto un gran secondo tempo, ma secondo noi oggi non è un punto perso. No, considerando che la prima è sempre un punto guadagnato, però considerando i valori anche di altre squadre con cui siamo andati a giocare, io ai punti, vedendo il secondo tempo che abbiamo fatto, sono due punti che alla fine rimani sempre lì con un conto fosse stato il secondo tempo, come abbiamo giocato il primo. Probabilmente il primo tempo è un punto guadagnato, il secondo sono due che puoi avere. È un peccato, tante altre partite finiscono così, che le vinci su una palla del cavolo. Noi invece creiamo, creiamo, creiamo e non riusciamo a fare gol. Però, ripeto, non perdere contro le squadre forti ci fa capire che possiamo giocarcela con tutti e il campionato è lunghissimo, basta veramente niente. Nelle ultime due partite vi è servito sempre prendere, diciamo così, gli schiaffi per reagire, no? Comunque sia, questo è anche un sintomo di carattere da parte della squadra, però rincorrere sempre è difficile. No, no, è dura, hai ragione, io questa è una cosa che non capisco. Quando non abbiamo niente da perdere, possiamo giocare spensierati, facciamo delle cose incredibili. Quando invece dobbiamo fare la partita, oppure sentiamo un po' la pressione del risultato, non riusciamo a dare quel qualcosa in più che abbiamo. È la differenza tra chi sta in alto e chi sta in basso, nonostante magari tu puoi avere qualità migliori di chi sta in alto. Quindi vuol dire che qualcosa manca, ma solo col lavoro la possiamo migliorare settimanale. Sabato prossimo a Palermo, arriva proprio l'occasione per dimostrare che si può giocare così, senza pensieri, visto che si gioca lo stesso con una delle corazzate del campionato. E quindi? Quindi si va per vincere, come siamo andati a Pescara per vincere, come andremo su tutti i campi per vincere, perché noi è più facile che facciamo i punti Palermo contro altre squadre. Quindi questa squadra qua, quando deve tirare fuori la qualità, ha sempre fatto bene. Palermo è una squadra che giocherà, che vorrà vincere, quindi lascerà spazi, ci lascerà giocare. Noi sono sicuro che faremo una grande partita, questo è sicuro. Speriamo che possiamo portarla a casa. Tre partite, alla fine vi siete fatti una tabella di marcia, una sorta di ipotetico percorso per queste tre partite, oppure andate avanti di giornata in giornata? Anche un obiettivo? È vero, però se iniziamo a pensare a quanti punti dobbiamo fare, noi non possiamo permetterci ancora. Non abbiamo ancora l'esperienza o quella giusta calma per pensare a quanti punti dobbiamo fare. Noi dobbiamo, tre partite mancano, tre partite proviamo a vincerle. Alla fine di giornata diremo le somme e poi vediamo cosa si può fare. È normale, bisogna fare i punti, quindi qualche vittoria bisogna farla per forza. È un po' quello che vi ha chiesto oggi la curva est-bisciani, no? In Ternano. Hanno ragione, hanno ragione. Comunque sia, tifosi sì, bel gioco, anni che a Terni non si vedevano queste cose, però poi la classifica è quella che è, è il tifoso giustamente ha tutto il diritto, anzi, probabilmente ha anche il dovere di dire come la pensa e di dirci che dobbiamo vincere. Però l'hanno sempre fatto in maniera assolutamente pacifica, anzi, anche oggi applauso. Io veramente un applauso a loro perché sono fantastici, ho mai trovato di tifosi così. Pesa la mancanza di vittoria? Non è che pesa, però sta diventando una cosa inconscia, che siamo sempre là, siamo sempre là, non riusciamo a vincere, però penso che la volta che riusciamo a vincere una possiamo andare avanti, possiamo andare avanti perché non si può rimproverare niente a questa squadra, solo per l'impegno, per la voglia, per quello che fa vedere, ci siamo sempre. Ci mancano quei dettagli che fanno la differenza tra giocatori importanti e annate importanti, e annate meno importanti. Alla pronti per fare un pilotto come al bigliardo? Esatto, bravissimo, speriamo. Grazie Luca, molto a noi. Grazie a voi.